Teste di cazzo, anche perchè posso iniziare solo così Allora, sto video è preso molto da FazeRain, prima che già comincia a dare un percazzo L'ho preso da FazeRain e ha caricato un video chiamato Fake YouTubers sul suo canale Dove parlava di alcune cose A me la cosa che mi ha rattristito, in un certo senso E' che si staffa sempre le war tra community, no? Chi è meglio, community americana, community inglese E poi, praticamente, di quello che diceva Reign Mi sono reso conto che noi possiamo prenderlo e apportarlo alla community italiana E vi dirò di più, che se Reign si riferiva a 10 persone Io con sto video mi posso riferire a 100 persone Fake YouTubers, YouTubers falsi Teste di cazzo Gente che praticamente dice, le fai video per passione Quando l'unica cosa che c'ha, le passione, so i sordi Ma proprio tanti però, eh So i sordi, so la fama Voi siete proprio persone luride E io faccio sto video perchè mi è preso a male Perchè ho ascoltato Reign L'ho trovato un video veramente fatto bene L'ho trovato un video veramente vero Vero? E essendo io una persona che mi ritengo abbastanza sincera Su molte cose Vi faccio pure vedere in screen Quanti sordi mi sono fatto col giant face video Almeno non mi rompe del cazzo, no? Visto che qua si dice che un video di 10k visual Te porta a fai milioni Almeno ve lo faccio capire Quanto si fa un video con 10k visual Io sono una persona abbastanza onesta su tutto Sono una persona che poteva sparare a sto canale a mille Sono una persona che sto canale lo poteva far Andare avanti Andare avanti Mi potevo fregare il cazzo Dalla passione che avevo per COD Dalla passione che avevo per MV2 Non l'ho fatto Perché? Perché è una passione La passione non deve essere riconosciuta come qualità Perchè se siamo ridotti A dimostrare Che noi youtuber che c'ha passione per i videogiochi Allora è una persona È una gran persona Ma la passione per un gioco Ma la passione per una cosa Non è una qualità La qualità Una qualità di una persona Può essere la sincerità appunto Può essere il suo volere a aiutare sempre le persone Può essere la sua simpatia Quella è la sua qualità Non è qualità Averci una passione Mandarla avanti Non è una qualità Non è un attributo da tagliare lo youtuber E invece qua oramai se siamo ridotti così Lo sapete perché se siamo ridotti così Perché se siamo ridotti a guardagente Che fa solamente serie di altri americani Che prende e riporta sul canale loro Ovviamente il fit con chi cazzo lo fanno Con un'altra persona che c'ha 900k iscritti Almeno dai Mi faccio più like Mi faccio più visual Se siamo ridotti A non amare più le persone che ci stanno accanto Perché Gli amici Gli amici tra virgolette Tra otto virgolette diverse Non è che si cambiano Cioè Se io sono amico di quello Io ci rimango amico di quello A meno che non succeda una cosa brutta Ok Se succede una cosa brutta Allora io non ci rimango più amico Ma non è che uno può dire Cambio sto gruppo di amici Eh Mi dispiace C'avevo sto gruppo di amici E mo passa a quest'altro Perché me trovo meglio con loro A testa dei cazzo Ma che dici Non cambierei Un fra Con niente Anche la donna se ne va L'amico resta per sempre Ma che dici Ma ci avevi zero iscritti Sei arrivato a 50.000 iscritti Non lo so Facendo video solo con questi E mo cambi Ma mica siamo oggetti Ma mica siamo persone Ma siamo umani Ma siamo persone con cui Ci avemmo passato una vita Magari con certa gente E poi li pisciamo Ma come ragionate Ma la gente è falsa La gente è falsa La gente si mette davanti al video E boom Pare che sta a fare attore No Gli youtuber non so celebrità Non so celebrità Ancora non lo sono Fortunatamente Lo diventeranno probabilmente Lo diventeranno perché youtube È diventata la tv È diventata la tv dei poveri Praticamente E manco più tanto dei poveri Perché circolano più soldi su youtube Cristo Dio Che imbanca Fra un po' Ok Cioè pare che stanno a fare Gli attori di Hollywood Abbiamo youtuber italiani Che se meriterebbero Veramente Il cosa Il Gordon Globe E l'Oscar Come cazzo si chiama Cioè Perché so bravi A farvi credere le cose Ma so buono pure io A dire Eh ragazzi mi dispiace Il video di oggi Non è potuto andare up Però vi porterò tre video Fatti con passione Mi raccomando Visualizzateli tutti Oh Ma dai Si te stesso Ma che cazzo ti cambia Ma che te cambia Ma te fai più felice Ma quando fai un video no Che sei te stesso Che non pompi le reaction Che non fai ste cose Ma non ti senti più Più bene Più bene Non si può dire Ma non ti senti meglio Con te stesso Dici cazzo Cioè Se sto video va bene È perché gli piaccio io Non perché gli piace il video È perché gli piaccio io Io quando vi parlo a voi Nello schermo Ve voglio portare A pensare a qualcosa Ve voglio far sentire qualcosa Io sono una persona Che parla All'iscritto E sarà che c'ha meno iscritti Dall'art Sarà che c'ha 10.000 iscritti Invece che 100.000 A 100.000 diventa un uomo De merda Che giro con i rei Banni imbruttito E vi guardo male Come se fossi 7 scalini Più in alto di voi Non lo so No Non penso Non penso Perché non so un cazzo 100.000 iscritti Non cambia una sega Se c'hai 100.000 iscritti Se c'hai 100 iscritti Non deve cambiare nulla Devi essere te stesso Quando fai il video Perché non è possibile Vedere gente Veramente Che appena spegne la telecamera Si mette a parlare Degli sponsor Cioè Capito Della serie proprio Dai ragazzi Vi voglio bene Proviamo ad arrivare a 50k like Mi raccomando Condividete anche il video Che è proprio divertente Boom Spenge la telecamera E se mette su skype Col tipo Fa Eh si Oggi mi è arrivato Uno sponsor Una bomba Se faccio il video De sto gioco E dico che mi piace Per finta Anche se mi fa schifo Mi pio 200 euro Quindi dai Ci stanno persone che sono diventate etichette viventi Io non voglio fare i nomi di nessuno Io non voglio fare i nomi di nessuno Ma ci stanno persone che sono diventate etichette viventi di youtube Ma che cazzo è oh? Ma mica sei una puttana? Ma mica fai quello che vogliono l'altri? 500 arrotolati Sai che sniffo senza coca Quello che mi spalla a me Il profumo della banconota Ma cioè Voglio dire Io non riesco più a capire Cioè Se tu Se tu cambi Se tu cambi il tuo modo di essere Per loro Per chi ti guarda Per chi ti guarda E questa E questa cosa Rain L'ha fatta capire bene Se tu cambi Per chi ti sta guardando Tu sei una persona falsa A meno che A meno che tu non lo dici Che hai creato un personaggio Perché ok Se tu te crei un personaggio su youtube E se vedi che te crei un personaggio Magari non lo so Fai commentare tutti vestito da mago Parli tutto elegante Perché vuoi far divertire Perché vuoi portare video così Quello è un personaggio O magari vi faccio l'esempio di chi era Duke o Zeb Non mi ricordo mai Scambio Non so manco se sono la stessa persona Che praticamente avevano detto Che erano dei personaggi De youtube Che non erano così E poi Quindi quello ci può sta Ma se no E' inutile che continui a far passare L'immagine tua Per un'immagine Che non è la tua Cioè se siamo ridotti Se siamo ridotti A vedere le cose Proprio In una situazione economica Sempre Qualunque cosa ci avevamo intorno E' utilizzabile E' sfruttabile Ok E' incredibile Gli amici Te c'hai centomila iscritti Sei amico mio Te faccio il video Ci faccio il video con te Perché sei amico mio Mi porti iscritti Mi fai visual Te sei la ragazza mia Cioè oh Ci siamo ridotti A trattare le ragazze Le proprie ragazze Io c'ho una ragazza Ci sto insieme Da cinque anni Ma non è che Mi ho impiazzata In un video Coi bichini E poi come thumbnail Ci ho messo Il film Sto pensando a parole Che possano farti del male Solamente per fare Eccitare la persona E poi fammi cliccare sul video No Non l'ho fatto Cioè oramai addirittura Quello si fa Se io vi porto la ragazza mia E' perché vi voglio Fa divertire Con la ragazza mia Perché io penso Che sia una persona Che vi può far divertire E di conseguenza Io ve la porto sul canale Ok Lì finisce Lì finisce Basta E non mi metto a scrivere Haha sexy challenge Con la mia ragazza E non mi faccio Trasportata all'onda Oh sta challenge Quella che se Mi tocco l'orecchio E te capisci Che mi sto a toccare l'orecchio Allora bravo Sei forte Non è che mi faccio Trasportata a ste challenge E allora vaffanculo Le faccio Perché so che Mi se fanno un milione De visual No perché tanto So sicuro Che te quel video Manco lo volevi fare Non l'avresti mai fatto Ti faceva pure schifo Però boh Dai una bomba Tanto su youtube Italia Va bene Quindi sti cazzi La gente è paurosa La gente è spaventata Perché non sa chi so Che sei così aggressivo Perché in fondo hai paura Io so di essere grigio Tu odi la sfumatura Ci sarà un motivo Perché la gente è falsa Su youtube È falsa pure nella vita Perché so Deste piccole esperienze Che se impara Che se diventa Proprio la persona Ci si costruisce la persona Se te sei un uomo De merda Su youtube E dici solo Cazzata Dalla gente Che te segue Invece te fa cose Fatte una maschera Stile pirandello Porco due E diventa un'altra persona Veramente È ridicolo Ci hanno paura Perché c'è gente A cui piaci E gente a cui non piaci Basta Facci l'abitudine Ok Va bene così Come sarà sempre nella vita Non puoi piacere a tutti Non puoi piacere a tutti La gente probabilmente Puoi pure essere un santo Appena fai una cazzata Te la potrà sempre rinfacciare Per il resto della tua vita Quindi di conseguenza Ci devi stare E non devi cambiare Per far sì Che queste persone Non ti vedano Non capiscono chi sei E non si facciano Un'idea propria State monopolizzando Le teste Desti pori ragazzini Desti pori agente Pure dei 18 anni Perché c'è credo Che se io seguo uno youtuber E noi sviamo sto discorso Da gente che è seguita Dai 12 anni Perché non è vero Io c'ho uno svario dei fan Che sono 18 anni Ma pure 19 anni Ma pure 20 anni so E è scontato Che se 18 anni Hai iniziato a vedere Uno youtuber a 16 anni E per 2 anni Si è cuccato questo Che diceva Ste cazzate Ti credo che C'ha la mente un po' bagata O comunque Non c'ha un'idea ben precisa Dello youtuber Che sta guardando Quindi per Dio Per Dio Fate le persone decenti Coerenti Perché io l'incoerenza Mi sta sul cazzo Sia delle persone Per Dio Che continuano ad arricchirsi E ci sta Ok C'hai avuto culo Sei diventato famoso Come cazzo lo vuoi chiamare Anche se magari In tuo meriti Perché monti video Ci metti 10 minuti A montare video C'è sta gente Che sta gente che si ammazza Di edit E poi si fa 500 like Bravo Ok Ce sta Ti puoi fare i soldi Però Non ti dico De mettete a sbandirà Sui video di youtube De fatti i soldi Ma non ti dico nemmeno De di certe cazzate Quali Eh Io i video Li faccio con passione Io sto cazzo Io sto altro cazzo E magari poi Non sanno manco Che 5-6 anni fa Youtube Annava stelle E non ha like Anche quando facevo video io E altra gente Della community italiana Seria Te stavi ancora Nella culla Ciucciate il dito E magari con panino Mano ammagnatela Ma vaffanculo dai E niente Io ho finito Io volevo solo di sta cosa Volevo di un paio di cose Perché mi hanno fatto Gira i coglioni E ringrazio Rain Anche se non mi capirà mai Non vedrà neanche mai il video Per avermi fatto ragionare Perché io a me Mi piace parlare di queste cose Però spesso Tendo a non farci video E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Community montage Probabilmente app Fra poco Nel senso Tutte le informazioni Per come mandare clip E tutto Vi ricordo di lasciare Un mi piace E un commentino Per farmi sapere anche la vostra Ciao Ehi Manda indietro E risenti un po' Frate Se ne hai capito qualcosa Qualche concetto Ne hai capito qualche rima Tu manda indietro E risenti un po' Perché quella è la cosa più importante Capì tutto quello che ti dico Lo devi capire